Bene raga, benvenuti in questo nuovo video Ok raga, mi sono ripreso Respira, ho trovato la soluzione Ho googlato come uno stronzo E la soluzione per creare questo bellissimo attrezzo sbrilluccicoso È lo spark Io l'ho già usato ma non sapevo potesse portare il mana dal mana pool al piedistallo Quindi lo andiamo subito a fare facilissimo ragazzi Oh mio dio, sì sì Andiamo in fretta, perché perdersi in cianci? Vi faccio vedere subito cosa devo fare Così passiamo al prossimo obiettivo Non vedo l'ora di sbloccare Vabbè non posso spoilerare Che cazzo spoiler? Allora servono delle blitz C'ho già qui, non so perché Puh, valgono pochissimo Vabbè E delle gold nugget Che non ho ovviamente, giusto? No Allora raga, lo sapete che ho paura che so scomparsi di nuovo degli oggetti da Recype? Vabbè E poi due petali qualunque, ok? Quindi prendiamo due a caso Tipo due azzurri Andiamo a crafting table Le craftiamo Ah, a proposito Fermi tutti Me ne servono due Di spark Perché due? Perché una di ingresso e una di uscita Adesso vi faccio vedere che cos'è lo spark ragazzi Perché Nemmeno io sapevo si potesse usare in questo modo Quindi adesso lo so Qui che altro non avevo mai fatto il portale dal fame Mi sono sempre fatto givvato Quindi non ho mai Non ho mai fatto la botagna in survival Quindi non avevo idea Di cosa facesse Ecco qui ragazzi Live drive Allora Vado a mettere uno spark sopra Non so se premendo col destro Si piazzi Per sicurezza vi faccio shift Destro E ecco qui uno spark piazzato Adesso vado a fare la stessa cosa Sempre shift destro Sopra il mana pool Guardate un po' che figata Allora in teoria gli spark E trasferiscono Quantità di mana immense In pochi secondi Quindi in teoria potrei Completare il craft dell'ingotto In un attimo L'importante è mettere sempre Ricordate Bind mod Così faccio Shift No Devo collegarle Dest Function mod Come faccio a collegarle? No trollerino eh Non è che devo metterle vicine? Ne sa che devo metterle vicine Porca paletta Mo vado Ok raga Vediamo se in questo modo Se stronzi si collegano Non le vedo molto colleganti Però eh Ok ok Si è collegata Guardate Guardate che figata Basta fare tasto destro Tatan Ok ragazzi A quanto pare Bisogna allinearle E poi si collegano da sole Non lo so che cosa fa Oh dai Basta Ok ragazzi Quindi abbiamo visto Che allineando le spark Sinceramente a me non interessa Quale funzionalità Oltre a questa Possano avere Perché alla fine Le allineo e funziona Sto a posto così Importante è farlo funzionare Una volta allineate ragazzi Dovremmo poter trasferire il mana Dalla pozza All'altare In pochi secondi Ok Che mi si è riempito L'inventario di merda Com'ha stato tutti questi mob Oh mio dio La roba che droppano Porca paletta Non ci ha fatto caso Pure questo Via Allora dicevo Una volta che sono collegati Vado ad aggiungere i materiali Per craftare Quello che mi serve Scusami Adesso come era? Con la mana pirla Giusto Ok Mana pearl Ah Devo togliere l'armatura Che cazzo è vero All'ingotto Mana pearl E diamante Ok ragazzi Guardate un po' che figata Lo spark sta trasferendo Quantità di mana immense Mi sta svuotando tutto Il mana pool Vediamo se riusciamo a vedere Il mana che cala Guardate quanto cala Ve lo scelto Quanto cala Milioni di mana al secondo E in teoria Una volta svuotato Mezzo mana pool Guardate che botte Che figata Lo spruzzo di mana Che esce dallo spark È bellissimo Comunque In teoria Fra pochi istanti Dovrebbe uscire il nostro Bellissimo lingotto Guardate sta diventando verdi Che figo Oh mio dio ragazzi Ve l'ho detto Le animazioni di questa Cazzo di mod Sono stupende Abbiamo il terraste lingotto Sì Posso andare nel regno Degli elfi E adesso qui ragazzi Ah Ho paura che qualcuno Rimanga deluso Perché Il regno degli elfi Non è proprio come Me lo aspettate Ecco Nel senso che Non ci sta Cioè non bisogna Entrare nel portale Cioè non si entra nel portale Ci si butta solo Dentro la roba È un po' tristissima Quei cosa Però spero che un giorno Implementino qualcosa Di più carino Nel frattempo muore gente Lì dietro Non voglio neanche guardare E Elven gateway Come ragazzi Ce l'abbiamo E adesso devo fare I pylon Siamo Pylon Questi verdi Belli Fatti Ok ragazzi Abbiamo tutto Posso aprire il portale Nel frattempo Un altro evento Winga demo Signori Non ci serve come una minchia Perché io devo aprire il portale Degli elfi Andarei a fanculo Uccelli alati Demoniaci Uno E due Adesso Fermi In teoria Dovrebbe servire del mana Nei mana pool E io esattamente Non so quanto mana Servi Ok Niente Perché si è aperto Ah ok Si è chiuso Perfetto ragazzi Avete visto Ho aperto per un secondo il portale Però si è chiuso immediatamente Perché non ho mana Vediamo se riesco a fare dei mana tablet Mana tablet Come si crafta Eh facciamo un mana tablet Aspetta un attimo Oh ristronzo Che cazzo Oh Oh si è duplicato Avete visto Si è clonato davanti a me Che cosa ha fatto Vai E le sti Cosi che volano Non li sopporto Ragazzi Questi ti avvelenano Sono proprio brutti Ecco lo sta avvelenando qua Eh ale Tanto vi schivo Stronzi Ha preso Mi ha avvelenato E io lo sapevo Come fate a prendermi Sono super agile Ne ho cesso due con colpo Wow Grande Xander Cos'è questo schifo Cagano per terra Ragazzi Cagano anche veleno E allora Per fare il nostro mana schifo Basta fare così E tutte le living rock intorno Bam Mana tablet Adesso muori stronzo Perché Ti stai accollando troppo Anche tu Questi zombie Credo vengano Dalla mob farm Credo ci sia Una falla nella mob farm Perché prima mi è arrivato Anche un silverfish Quindi non vorrei di stronzate Ma c'è qualche cazzo Che non va là giù Che cazzo è Ah lo spruzza veleno di merda Muori stronzo Quello è pure dorato Guardalo Golden veleno Spruzza merda Comunque Dicevo Il mana tablet Ragazzi È una tavoletta Che semplicemente Raccoglie mana Ok Quindi la posso buttare Tipo dentro una mana pool E vabbè Basta con sto veleno Muori Stavo spiegando Mi fai spiegare una cosa Con calma Dicevo La mana tablet La butti dentro Il mana pool Chi è che imbicchia Guarda gli zombie che arrivano da lì Ma che succede a sto posto Ok ragazzi Sembra si sia calmato tutto No è un altro zombie Vabbè Questo è uno solo Però muore facile Dai Ok dicevo Il mana tablet Io se lo butto all'interno Cos'è questo Zombie della morte Nero Ma che cosa Da dove è uscito Vabbè Il mana tablet Se lo butto dentro a sto cosa Riuscirò a fare di sta cosa Settimana magari Ok E cambio l'impostazione Guardate Vedete come è impostato Guardate in basso Pezzo di merda Vedete in basso Come è impostato E il mana tablet Con la freccetta Verso il mana pool Ok Se io Faccio modalità function E clicco col destro Scusate Shift destro Guardate un po' Si inverte la freccia Cioè da Mana pool A tavoletta E adesso ragazzi Sto caricando la mia tavoletta Con il mana pool Perfetto Ho raccolto tutto il mana Adesso la mia tavoletta E carica di mana La cosa che devo fare adesso Semplicemente è fare La stessa cosa però Al contrario Cioè averlo impostato Da tavoletta a mana pool E buttarci la tavoletta dentro E adesso la scarico Guardate un po' Che carino Tadan Basta Basta Ok Ne scarico solo un po' Perché devo dividerla Fra i due mana pool Altrimenti Non riesco ad attivare il portale Quindi Cerchiamo di lanciarla bene all'interno Dai che ce la posso fare Xander Non è difficile È un lancio con la Q And Xander No non raccoglie tutto il mana Dammelo 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 E' finito il mana E io lo sapevo Ok ragazzi Abbiamo messo un po' di mana All'interno dei nostri pylon Possiamo attivare il portale E adesso fermi tutti Prima di attivarlo Cosa importante Allora Il portale dura in base a quanto mana c'ho da parte Di mana non ne ho molto Durerà poco Quindi voglio utilizzarlo subito Dobbiamo vedere subito 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 Quello che ci serve Quindi andiamo subito su Botania E prendiamo il nostro Orekid Ingem E a noi ci serve Eccolo qua Il Pixie Dust Che si fa con le mana perle Le mana perle Come uno stronzo Le ho poi una buttate nell'uplet Perché ho miscliccato Eh non è stronzo È stronzo Raga sta succedendo qualcosa di strano a casa C'è un problema di oggetti Che vagano nella logistica Che cazzo succede qui? Che sta succedendo scusate? Perché l'uplet non importa più oggetti? Raga è successo qualcosa all'uplet Porca di quella paletta Che è successo? E qui c'è la c... Non mi dica se sono riempiti i dischi Guardate il bordello Che c'ho in faccia Basta Che cosa è successo? Ma che cos'è? Ma che cosa sta succedendo? Boni Perché non raccogli più? Sono pieni tutti i dischi Ma porca di quella paletta Eh boh ma devo inventare Devo fare altri dischi raga Dai non riesco a fare nulla Aiuto Mi serve una chest Chest in diamante Porca Oddio il bordello Non sapete cos'è che mi ruote? Che mi si sta mischiando Tutta la roba della botania Basta Oddio il casino più totale No non ci riguarda che cazzo di bordello Zero eh Lo sapete qual è il vero problema? È che i dischi non sono pieni di Di quantità di oggetti Sono pieni di varietà di oggetti Cioè discorso Non devo fare dischi più grandi Devo fare più dischi È quello il problema Cioè è una cosa allucinante Incredibile Quindi mi serve Tutta questa roba qui Cioè dovrei avere comunque Il processor c'era un botto Eccoli qua Non si propone Faccio un altro stack di dischi Ma che me frega E poi mi serve Il quarzo Che lo prendo da qui E poi mi serve la redstone Dovrei avere tutto sinceramente Quarzo Redstone E basta Che altro serve? Quartz glass Ah facciamo Facciamo veramente uno stack di dischi No ragazzi Non penso neanche Posso tenere nell'inventario Uno stack di dischi Quindi intanto facciamo 16 di questi Ne vengono fuori 16 Ok E poi facciamo l'upgrade al disco Serve un po' di ferro Redstone Ok redstone Non è difficile E calla Io lo sapevo Io lo sapevo Si è dimenticato Si è dimenticato la roba Guardate ragazzi Si è dimenticato il quarzo in polvere Si è dimenticato il quartz glass Si è dimenticato Ah il quartz glass Non lo può imparare Ah quindi mi serve il quarzo in polvere Che non ho Devo per forza polverizzare del quarzo E come lo polverizzo il quarzo Ci sta quello manuale Che faccio al volo Porca di quella paletta Regà guardate come mi sono ridotto A crancare il quarzo a mano Che tristezza Vi giuro Almeno Almeno adesso ho il quarzo Veramente Peccato che non si può usare Il fused quartz Vabbè se ne fanno una ragione Ok andiamo a craftare Un bel po' di quartz glass Dicevamo di craftare Un kappa storage Quindi serve un sacco di quartz glass Spam Non duplicabile Purtroppo non capisco perché E non capisco che succeda Questo gioco ragazzi Ogni tanto si dimentica Delle resaip Con la E Non lo so C'è qualche problema Con le resaip Perché alla fine Il quarzo glass si crafta Con quarzo che ha valore MC E vetro che ha valore MC Quindi dovrebbe tranquillamente Dare un valore anche a questo Ma non glielo dà Prima glielo dava Adesso non più Non capisco perché Boh vabbè 16 dischi da un kappa ragazzi Tutti i craftabili E oh mio dio È vero Dovrei mettere la mod Che mantiene la roba Nell'e crafting Ok ragazzi Adesso l'appia dovrebbe ripartire Tranquillamente senza problemi Me la son vista brutta Allora adesso dovrei aggiungere Altri drive Perché si sta sfanculando tutto E buttare un po' di ferro Perché viene troppo Ecco via Pucci via Allora dovrei fare altri drive Soltanto che qua Gioco qua tutte le linee Dovrei fare un Cavo grosso Più grosso E altri drive Dovrei fare uno stanzone pieno di drive Brava che aumentiamo qualcosa Perché qui Non si scappa Allora intanto schiaffo i dischi Qui dentro Mi crafto Crafta tutti quelli che riesco a craftare E dovrei poter craftare altri tre Esatto Ok Adesso devo mettere tutta questa roba Nell'applet Mamma mia Qualcosa Quartz glass me lo tengo Perché non è più duplicabile Che devo da fare Questa roba invece la schiaffo tutta via Perfetto Ok ragazzi E puliamo tutto Allora raga Nel poco tempo in cui il portale rimarrà aperto Devo buttarci dentro tutto quello che posso Sia living wood Sia living rock Sia Mana pearl E anche dei lingotti di mana Di mana still ingot Perché altrimenti Rimango senza craft Ok Ho delle cose avanzate da craftare Che richiedono queste cose E li schiaffo tutti dentro al volo Perché poi Non voglio riaprire il portale Cioè non voglio sprecare Mana per un cazzo di portale di merda Ci devo buttare anche il libro Non dimenticate che se non buttate il libro È brutta Ok Dove ho messo la mia rod No Ho buttato la rod Nella E niente raga Purtroppo mi devo craftare un'altra cosa Che vedevo da dire E uno Due E tre Che Che me so Mi è sparita la wand Che cazzo Forse si consuma quando attivo il portale L'ho consumata prima Non mi ricordo Vabbè Andiamo ad attivare questo portale E utilizzare Tutto il mana Per trasformare Tutta questa roba qui Importantissimo ragazzi Prima le mana pearl Quindi sparremo mana pearl Come stronzi E poi pensiamo al resto Vado Ah sì Prima il libro Vado eh Tre due uno Bam Libro inside No Armatura È già chiuso Ma ca Quanto mana serve per aprirlo Aia 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 Che cazzo mi danno fa quello zombie Quasi sciottato Aia Oh Sono morto ragazzi I cuori rossi Sono riuscati Ho 15 hp Sono praticamente morto Follia Vabbè Dicevamo Apri il portale Butta libro Perché non va Non basta il mana Ma quanto mana serve Ok Una soluzione ce l'ho Madonna ragazzi Si zomini Fanno malissimo Io muoio Io muoio qui eh Ci muoio Ci muoio Ok serve più mana Portiamo più mana Oddio questo è incazzato proprio Fuga Regà Sono morto di nuovo Regà Lo zombie Lo zombie più forte Nella storia della noia Craft mi è appena Spawnato in faccia 380 hp No E quest'altro A 1160 hp Con due colpi Mi ha ucciso Due colpi E lo zombie più forte Della noia Craft in ora 1164 hp Le torrette Lo stanno massacrando Di botte Non muore Cioè è una cosa Disumana Questo affare Mi ha ucciso Con due colpi esatti Mi ha guardato Papà morto Fu vita eh Una cosa Indecente Imbarazzante Io Boh Non muore 1100 hp Non muore mai Niente raga Purtroppo per aprire il portale Mi serve un botto di mana in più Che non ho Io sto adesso buttando Black lotus Sperando che Riesca a compensare Un po' il mana Perché anche questi Un bel po' di mana Lo producono Io non so esattamente Quanto mana pool Serva Cioè Se deve essere pieno a metà Se deve essere pieno un quarto Tre quarti Quindi sto buttando un po' di black lotus A casa Cercando di stabilizzare un po' il mana Ok sta più o meno sullo stesso livello Questo è un po' più basso Ok vediamo se adesso Il mana basta Ho purtroppo finito le black lotus Ragazzi Quindi devo prendermelo un po' Nel Quel posto lì insomma E proviamo ad aprire Speriamo che vada bene Puh È stabile? Si è aperto? È stabile? Si è aperto? È stabile? La stronza è stabilissimo? Se mi fai Oddio Se questo zombie di mer... Butto il libro intanto No cazzo Se questo zombie Mi fa perdere il portale Impazzisco Sì Libro degli elfi Basta Butta manaperle Go 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 Dio che bello ragazzi Guardate sto convertendo Tutte le manaperle In Shard che mi servono Non ci pensare manco Per il cazzo Non mi cago gli zombie ragazzi Ah io muoio Oh muoio Oh No raga C'ho il portale aperto E sto morendo Da sti zombie buggati Che cazzo Di danni fanno? Che cosa di danni sono questi? Mi seguito il portale Impazzisco 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 Mamma mia raga Ce l'ho fatta Il portale sembra stabile Sto schiaffando dentro Lingotti come uno stronzo Ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Bella per voi Sto farò più figo di tutti C'è il portale degli elfi C'è il portale degli elfi Mi si sta mangiando tutti i lingotti Ridiammi indietro Ecco bravo Mangia Mangia Ok ragazzi Ci vediamo al prossimo video Bella per voi Ciao Madonna Sto video è durato un voto Questo vuole doppi di mi piace Raga doppio mi piace Per il video lungo più lungo Grosso più grosso Bella Nel prossimo video Ciao Io schiaffo dentro roba Nel frattempo